Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Mi chiamo Letizia e frequento il secondo anno del corso di laurea magistrale in chimica. Per me l'Insubria è più di un'università. È un posto in cui noi studenti possiamo sempre contare sulla disponibilità dei nostri professori, che si interessano infatti personalmente ad ognuno di noi. Un altro punto di forza dell'Insubria è data dell'azienda e del territorio, che collaborano direttamente con i nostri ateneo tramite conferenze e visite guidate, dandoci così l'opportunità di dare uno sguardo al mondo del lavoro sin da subito. Ci vediamo all'Insubria!